Oggi la stagione fa il suo corso, e quanto è facile scoraggiarsi, tornare alle consueti illusioni, dietro l'apparenza essere vuoti e spenti, come giostre di giorno. Ma se apriamo gli occhi, le orecchie, le nostre narici e le mani per toccare il mondo intorno, con la bocca pronta a assaggiarne il gusto, anche questa stagione è difficile, con il vento che scaccia il ricordo del bel sole estivo e la pioggia che sciacqua i colori vividi dei giorni di agosto, sì, anche questo autunno saprà non di pena, ma di vita.